Oggi parleremo di una pilota automobilistica italiana, napoletana, che è entrata nella storia con il nome di Pilotino, subito dopo la sigla. Pilotino non è nient'altro che Maria Teresa De Filippis. Nasce a Napoli l'11 novembre del 1926. Siamo nell'Italia fascista e la sua infanzia, la sua adolescenza la passa proprio in questo periodo storico molto particolare. Già comunque nel mondo non c'era un gran spazio per le donne figurarsi nell'epoca ovviamente in cui nasce Maria Teresa De Filippis. Se ad ogni modo pensate che le donne nel nostro paese non avevano il diritto di voto, il suffragio universale ci sarà soltanto nel 1945, quando il Regno d'Italia concesse appunto il suffragio universale. E l'anno dopo, nel 1946, uomini e donne poterono votare per la scelta tra monarchia e repubblica e le contemporanee elezioni per la configurazione dell'assemblea costituente. Questo è il periodo storico, quindi apertamente maschilista. Ma fatta questa premessa a Maria Teresa De Filippis non importava assolutamente nulla. Lei voleva guidare, voleva gareggiare, voleva insomma avere il volante in una gara. E l'occasione arriva, è il 1948. Maria Teresa De Filippis, che poi verrà chiamata pilotino, ha 22 anni. Partecipa ad una gara in provincia di Salerno, precisamente a Cava dei Tirreni. In totale la gara è di 10 km e lei vince quella gara. Ma a lei non importa tanto vincere soprattutto quella gara. A lei importava battere per una scommessa tutti i suoi concorrenti. Alcuni erano anche degli amici e soprattutto erano tutti maschi. Non si arrende e cocciuta Maria Teresa De Filippis vuole a questo punto partecipare ad una gara importante. La gara delle gare, ossia la Formula 1, un gran premio. Passano degli anni, lei continua a gareggiare, continua ad allenarsi. L'occasione arriva nel 1956, Maria Teresa De Filippis ha 30 anni. C'è una gara di contorno per il gran premio di Formula 1 che quell'anno si disputava tra l'altro anche a Napoli. In questa gara di contorno lei arriva seconda e ovviamente viene notata dai grandi competitor e dalle grandi case automobilistiche. A questo punto è lanciatissima per partecipare ad una gara vera. L'occasione arriva due anni dopo e il 1958 Maria Teresa ha 32 anni e partecipa a le gare di qualificazione di un gran premio di Formula 1. Guida una Maserati F250 alla quale tra l'altro legherà per sempre il suo nome nella comunque brevissima carriera che tra qui a poco vado a raccontarvi. Ad ogni modo non supera le qualifiche e quindi in realtà non gareggia poi per la vittoria finale. Sempre nel 1958 questa volta supera le qualifiche di un gran premio. Siamo in Belgio. Si qualificherà per la gara e per la vittoria finale. Ovviamente si piazzerà al decimo posto a due giri dal vincitore Tony Brooks. A quel punto nei successivi 12 mesi parteciperà alle qualifiche di altri gran premi molto importanti di Formula 1. Il gran premio d'Italia, il gran premio di Portogallo e soprattutto il gran premio di Monaco. Ma sta per accadere qualcosa che farà cambiare idea sul gareggiare in Formula 1 a Maria Teresa De Filippis. È il 1959, c'è il gran premio di Germania. Ci sono le qualifiche alle quali deve partecipare anche Maria Teresa De Filippis. Tra l'altro c'è un suo amico che in qualche modo la precede e Jean Bera va a schiantarsi e muore. Lei in quel momento decide di non gareggiare più. Si ritirerà infatti per sempre dalle gare, dal mondo dello sport. Troppo forte è stata quella tragedia per Maria Teresa De Filippis. Comunque, Pilotino, come è stata per sempre ricordata nel mondo della Formula 1, ha vissuto certamente un momento non facile, storico ovviamente, per le donne. Siamo nella metà del secolo scorso. Pensate che nel gran premio di Francia, a Reims, il giudice non le permise di gareggiare per il gran premio e quindi di partecipare alle qualifiche perché sosteneva che il casco, le donne, dovevano indossarlo soltanto dalle parrucchiere. Cocciuta, indipendente, molto intraprendente, è stata una donna davvero incredibilmente forte dal punto di vista caratteriale. Pensate che non soltanto è stata la prima donna a gareggiare in Formula 1. Dopo di lei è riuscita a passare le qualifiche soltanto un'altra donna in tutta la storia dell'automobilismo. Tra l'altro un'altra italiana, si tratta di Lella Lombardi. Ma la cosa più incredibile è che in tutta la storia della Formula 1, in tutta la storia dell'automobilismo, soltanto cinque donne in assoluto hanno tentato di partecipare ad un gran premio e quindi di superare le qualifiche. Lei non solo è stata la prima a cimentarsi con questa gara, ma è stata anche la prima ovviamente a superare le qualifiche. Maria Teresa De Filippis è morta l'8 gennaio del 2016 a scanso Rosciate. Verrà per sempre ricordata come pilotino, è vero, ma soprattutto come una donna che ha cercato di far valere i propri diritti. In un periodo in cui era davvero difficile far capire che c'era un'assoluta parità tra uomo e donna. Non mancate di farci pervenire i vostri consigli, i vostri suggerimenti, le vostre critiche, e soprattutto darci anche qualche consiglio su degli argomenti che possiamo eventualmente raccontare giusto il tempo di un caffè, come recita la nostra puntata. Appuntamento a domani per un'altra puntata di O Tempo e Nucafè.